Da pochi giorni gli orari dell'autobus Arfea sono disponibili su Google Maps. Vediamo come fare usando il servizio di Google Maps per trovare un orario. Clicchiamo su Google Maps e inseriamo in questo box in alto la nostra destinazione. Quindi, per esempio, vogliamo andare ad Alessandria, inseriamo Alessandria. Poi ci portiamo su Indicazioni stradali e inseriamo la nostra partenza. Quindi, per esempio, Acquiterme. A questo punto scendiamo nella pagina e vediamo che è disponibile un orario dell'autobus. Come lo riconosco? Da quest'icona dell'autobus e lo riconosco perché vicino c'è il numero della linea. Da non confondere con quest'icona che è quasi uguale, che però ha la doppia finestra, che è il treno. Per cui noi sappiamo che se vediamo quest'icona qua con vicino un numero come 022, questo è un autobus. A questo punto ignoriamo un attimo quest'orario e clicchiamo sull'icona dell'autobus e vediamo che l'autobus parte alle 17.10 da Acquiterme e Movicentro. Possiamo fare di più. Espandiamo, cliccando qui, e ignoriamo questo pezzettino che è il tratto a piedi, che lui ci stima dove siamo noi e quindi ci dice quanto ci mettiamo ad arrivare. Invece andiamo a vedere che l'orario di partenza esatto sono le 17.10, Acquiterme e Movicentro, ci conferma la linea 22, ci dice che ci sono 10 fermate e che il tempo impiegato per arrivare ad Alessandria è di 51 minuti. Quindi, di fatto, l'orario di arrivo è alle 18.01. Possiamo ancora fare altro. Espandiamo, cliccando qui, e vediamo tutte le fermate e tutti i minutaggi delle varie fermate. Vediamo che il servizio riconferma gestito da Arfea SRL. Possiamo ancora fare di più. Clicchiamo su questo tasto, Esplora orari, e vediamo, facendo sempre attenzione a capire che questo è l'autobus e questo è il treno, infatti il treno vicino ha in corrispondenza regionale anche il numero, vediamo che c'è un altro autobus alle 18.22. Se clicchiamo in sovraimpressione vediamo già anche altre informazioni aggiuntive. Ci possiamo cliccare sopra e a questo punto vediamo come prima l'orario di partenza, la linea, il minutaggio, il numero di fermate e se espandiamo vediamo ancora come prima a che ora parte, a che ora arriva e tutte le fermate effettuate che il servizio è sempre gestito da Arfea.